In ASBIM Editor troviamo funzionalità di lavoro collaborativo che sono a disposizione degli utenti connessi simultaneamente sullo stesso progetto, per lavorare a più mani su un documento condiviso in piattaforma. Queste operazioni di lavoro collaborativo e di accesso contemporaneo danno la possibilità di ottimizzare la protezione di un modello. Una volta terminate le operazioni di compilazione dati, bisogna cliccare sul tasto Consolida per uscire dallo stato di bozza e validare le modifiche del documento in una versione consolidata.